e dai dobbiamo stati due anni così se mettiamo a lavorare, noi abbiamo un lavoretto carino ma con chi è rumen è rumen è il cazzo del prego hai da investire una persona mica su pizza e fighi? ciao ma io andavo a scuola, normale, noi adesso senza volello abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano ma è stato un infame trovate il modo per far te tra stiamo sparando? si si no si è bacia solo no, è morto, no a te già ti conosco ciao ciao a me ma perché invece le sta sempre con Manolo? sta un po' con tua madre sapiamo tutto l'uno dell'altro, mi dici che cazzo è successo? ma che t'hanno fatto per state così sul cazzo? i giovi devono poter sognare no no ci pensiamo a quasi la tua a volte strano eh a zero a mille così bu grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti